Buonasera e ben ritrovati in un stato appuntamento con la voce dell'istituzione, ho il piacere di avere in studio il Vescovo della Diocesi Belluno a Feltre, Don Renato Marangoni, che ringrazio come sempre per la disponibilità. Abbiamo molti argomenti da trattare, direi che il primo è le novità che ha dovuto mettere in atto il mondo cattolico per svolgere tutte le celebrazioni, ma con tutte le limitazioni che l'emergenza Covid ha imposto anche alle riunioni nelle chiese. Sì, è interessante chiamarle novità, perché davvero tutto questo ha comportato anche un cercare qualcosa di nuovo, a cui non eravamo abbastanza usuali e abituati, insomma. Ma direi che la novità più grande è che innanzitutto ci ha sconcertato, ci ha disorientato questo fatto. Quando questo succede, ma è successo nelle nostre realtà di parrocchie, quando succede questo disorientamento ti devi chiedere ma che cosa teniamo, che cosa mettiamo da parte? Ecco, penso che questa è la prima novità che abbiamo rivisto un attimino le cose essenziali da fare. Le cose essenziali poi sono state quelle che abbiamo visto in questo periodo. Abbiamo proposto anche di riprendere una certa attività di preghiera in famiglia, in casa. Abbiamo valorizzato questa dimensione personale dell'esperienza di fede. E questo direi è stato un primo grande apporto, perché molte persone hanno ritrovato anche altri spazi, al di là di quelli istituzionalizzati, di quelli rituali. E questo penso che si è riflettuto anche nella vita delle nostre case, con tutte le difficoltà che ci sono state. Io ho avuto parecchi riscontri perché abbiamo offerto l'opportunità del materiale per pregare in famiglia. Abbiamo addirittura, in qualche modo, smontato le celebrazioni attorno alla Pasqua, il triduo pasquale, giovedì, venerdì, sabato santo e la domenica di Pasqua, e offerto anche una mini celebrazione domestica. Questa direi che è una novità, perché avevamo un po' troppo istituzionalizzato in forma così pubblica queste celebrazioni. Quindi è una novità che adesso dobbiamo integrare e, come dire, anche coltivare ulteriormente. C'è stata un'iniziativa da parte della Diocesi a Belluno, però poi anche tutte le parrocchie sono un po' organizzate in queste messe streaming. Certo, per via streaming, poi ci sono state varie, alcune parrocchie hanno già la radio, anche locale, insomma. Quindi c'è stato un utilizzo, direi proprio diffuso, di questi mezzi tecnologici. Quindi questo che cosa è stato? È stato, da un certo punto di vista, affavorito dei contatti che si erano anche perduti. Io ho ricevuto riscontri di chi di solito non partecipava e ha preso l'occasione di quei momenti lì per viverlo come momento personale, interiore, eccetera. Ecco, devo dire che c'è stata una disponibilità bella, buona, da parte dei nostri preti e anche di persone che hanno per questo collaborato. Te devo dire anche personalmente, noi abbiamo collaborato per fare in modo che proseguisse questa abitudine alla celebrazione domenicale e ogni tanto la tecnica non aiuta e le lamentere da questo punto di vista sono state numerose. Quindi vuol dire che c'era molta attenzione. Forse curiosamente ha portato a riavvicinarsi. Sì, sì, questo è stato un gran servizio che Telebelluno ha fatto, anche la pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Anche l'altro giorno mi è venuta incontro una signora, mi ha detto ah ma lei ormai è di casa, perché attraverso così Telebelluno abbiamo potuto così la domenica mattina celebrare la Messa delle Dieci. Ecco, questo non è stato facile per me, perché abituati, una celebrazione ha bisogno di tutto, cioè anche del corpo, anche delle dinamiche così di sguardo, sensoriali, non è semplicemente un dire delle parole, comporta anche degli atti, dei gesti, la presenza, eccetera. Pensiamo che il centro dell'Eucaristia è prendete e mangiate, prendete e bevete. È un'azione vera e propria, che domanda. Quindi far diventare questo una trasmissione, una rappresentazione così non è stato facile. Alcuni lo hanno un po' percepito, questo c'è stato un po' di riserva, però devo dire che nella situazione in cui eravamo di rispetto per la salute pubblica e anche per offrire un momento di ricarica interiore è stata una buona occasione. Diciamo, ci ha abituati ad essere così più pronti anche con questi mezzi a comunicare. Per me è stato un gran esercizio di comunicazione. C'è da dire anche che voi avete dovuto affrontare coloro che non sentivano ragione del fatto che le chiese fossero chiuse, mentre è stato un atto di grande responsabilità. Coloro che sostenevano si doveva fare lo stesso, si doveva prendere l'Eucaristia ugualmente. Quindi anche affrontare questo tipo di intransigenza non deve essere stato facile. L'inizio, devo confessarlo, non è stato facile perché le reazioni sono state abbastanza forti. Qualche volta io direi anche un po' spropositate perché l'intenzione non era quello di togliere. L'intenzione era quella di farsi carico di una situazione con responsabilità e di trovare anche le forme, le modalità. Io penso che questo ci ha insegnato che occorre mediare, pensare insieme, mettere insieme varie esigenze, vari fattori che incidono. La vita così di una comunità cristiana non è avulsa dal contesto, dalla realtà, si fa carico. Questo è stato penso uno degli aspetti che ci ha fatto un po' penare, ma sui quali abbiamo puntato molto, farsi carico insieme. Da qualche domenica sono state riaperte le chiese e ci sono delle problematiche che non hanno state tenute in considerazione, penso di no perché eravate più che pronti. La ripresa, questo lo posso dire anche a nome degli altri 14, siamo 15 diocesi del Triveneto di questa regione ecclesiastica, tutti hanno notato che l'inizio avrebbe potuto essere forse affollato. In realtà è stato graduale questa partecipazione fisica alla celebrazione. Sappiamo che molte persone hanno nutrito ancora un po' di esitazione, di paura. Comunque c'è stato uno sforzo interessante, bello, dei volontari che avevano questo compito addetti ad ordinare un po' l'accesso e anche la celebrazione. Abbiamo adottato questi mezzi che ci sono stati indicati dalle linee di orientamento, dalle linee guida e abbiamo cercato di fare il meglio possibile. Io non ho ricevuto la mentele, insomma in senso, ecco c'è stato direi una graduale ripresa di questa attività pubblica comunitaria della celebrazione. La primavera è anche la stagione di due momenti importanti per i cattolici che è la comunione e la crisi, ma saltano, com'è che pensate di recuperare queste cerimonie che capitavano sempre nel mese aprile, maggio, giugno? Ma ci sono anche delle ragioni di opportunità, ecco soprattutto non sono saltate, in realtà si è vista l'opportunità, vista anche la sospensione della preparazione di tutta l'attività di catechesi precedente, la preparazione fatta di incontri, di esperienze che sia i bambini anche in preparazione alla messa di prima comunione, sia soprattutto gli adolescenti o i giovani per la celebrazione della crisi, ma in ogni parrocchia avevano già programmato. Siccome è saltato tutto questo è stato molto opportuno che si dicesse facciamola in un'altra stagione, insomma, il prossimo anno. Un cammino un po' interrotto in alcuni aspetti e che riprenda verso il prossimo anno, questo non comporta un togliere, comporta un dilazionare. Ecco, devo dire che ci sono state iniziative interessanti di collegamento tramite i mezzi, catechiste, catechisti, animatori, i preti stessi si sono collegati con questi ragazzi, hanno offerto loro qualche provocazione. Ecco, è stato un modo altro per tenere viva la preparazione. Comunque è un cammino l'esperienza di fede, per cui non dovrebbe finire. Così quei sacramenti non è finito. Allora, io vengo da una generazione che è guai se non avesse avuto il supporto dell'oratorio, il supporto delle parrocchie, sia durante il periodo scolastico, ma soprattutto durante il periodo estivo. C'erano sempre queste possibilità di andare a San Marco, mi viene in mente questo, ma addirittura per un mese, oppure c'erano gli scout. Si presenta adesso la problematica di poter offrire ancora queste possibilità di incontro e di comunione fra tutti gli altri ragazzi, ma con tutte le problematiche. Siete riusciti a risolvere sempre San Marco, mi viene in mente che è forse il centro più frequentato. Comunque, proprio ieri è stato pubblicato dalla Regione le nuove linee guida anche per questo tipo di esperienze estive che sono un po' prolungate nel tempo, sono campeggi, oppure quello che si svolge per noi sia alla Villa Gregoriana oppure al villaggio San Paolo, che sono già attivate, avevano già colto le precedenti linee del 29 maggio emesse dalla Regione per l'attività estiva, avevano cercato di adeguarla e ci si è attrezzati secondo queste linee, per cui sia Villa Gregoriana, sono due località tipiche, insomma, e sia il villaggio San Paolo riprendono l'attività nelle forme, nelle modalità previste, col distanziamento, con alcune precauzioni che sono dovute dalla situazione che stiamo vivendo. Però la problematica più grossa l'abbiamo sentita per le parrocchie, che erano solite organizzare almeno due tipi di esperienza, quella cosiddetta del Grest, che è un appuntamento per un tempo di 15 giorni, a volte tre settimane, ogni giorno per i ragazzi, con le figure di ragazzi più grandi, di giovani oppure di adulti, che li accompagnavano, organizzavano attività ludiche e ricreative, che comunque avevano un valore anche formativo. Ecco, tutto questo per un attimo è sembrato sospeso. In realtà le linee guida, le linee di orientamento del 29 maggio hanno aperto la possibilità di realizzarle, nelle forme che conosciamo, per i bambini da tre a sei anni, gruppi, queste cellule, di cinque componenti, fino poi ai dieci anni di sette, oltre i dieci anni, fino ai 17 anni, gruppi di dieci. Cosa vuol dire? Che bisogna organizzare quell'iniziativa estiva, Grest o altro tipo di attività estiva, così, garantendo che il gruppo possa fare l'attività in continuità, solo quel gruppo lì, per evitare possibilità di, sì certo, di contagio anche. Ecco, si tratta di ripensare il tutto, i numeri probabilmente vengono un po' ridimensionati, c'è la novità che ogni gruppetto, ogni gruppo, ogni cellula deve avere un adulto, proprio come garante, come accompagnatore, e su questo ci siamo trovati un po' spiazzati, per cui... Quindi, diciamo, un appello a un volontariato... Sì, un volontariato, dico che di più ancora, il di più che ne viene da questa esigenza qui è che bisogna ricreare un'alleanza con le famiglie e con gli adulti della comunità, perché messi in gioco anche loro, dovutamente, dobbiamo farlo questo. Quindi io penso che, anzi, il mio è anche un appello di incoraggiamento alle parrocchie. Se tutti possiamo fare anche una piccola cosa, non troppo, certo, però una piccola esperienza quest'estate, così di piccoli gruppi, due, tre gruppi, abbiamo le catechisti, abbiamo altre figure di adulti che possono mettersi a disposizione di questo, penso che saremmo preparati poi per quello che ci aspetterà all'inizio del prossimo anno sociale e pastorale, che non sarà tanto diverso da questa condizione qui. Quindi la nostra attività sta un po' ripensandosi, è dinamicamente in cantiere adesso. Bisogna vedere anche i lati positivi di questo riconcetturare... Ecco, il coinvolgimento degli adulti più diretto, eccetera. Non abbiamo molto tempo per un'altra domanda. Le scuole materne di indirizzo cattolico, avete avuto anche voi problemi come chiaramente quelle e le altre. Sì, sì, c'è le scuole, le scuole dell'infanzia paritarie, queste che sono legate alle nostre parrocchie, anzi che sono parrocchiali, noi ne abbiamo 16 nella nostra diocesi, altre fanno riferimento alle parrocchie, però sono gestite da enti, associazioni, fondazioni particolari. Però queste scuole davvero si trovano un po' in difficoltà, le condizioni in cui sono chiamati ad operare. Il fatto che sono sostenute dalle famiglie e dalle parrocchie, che da parte dello Stato c'è una riserva molto grande nel sostenere i costi di questa scuola che è pubblica, perché fa un servizio pubblico a tutti, ecco questa è una questione un po' strutturale che ci lascia sempre un po' così in una crisi e una difficoltà oggettiva. Tutto si è addirittura un po' elevato all'ennesima potenza per le nuove condizioni in cui possiamo svolgere la scuola. Ma la scuola prevedeva anche un'attività estiva, che non era più didattica, era ricreativa, ludica. Questa possibilità che ci ha dato, su cui siamo stati incoraggiati anche dalla regione, poteva essere, permettere un nuovo impiego dei nostri dipendenti, degli insegnanti. Ecco, su questi punti qui c'è stata un po' di difficoltà e vedo che ogni scuola materna deve fare i conti concreti nel suo rapporto con la parrocchia, con il comune, nell'attesa anche di avere dei contributi, perché senza contributi è insostenibile tutto questo. Eppure il servizio che svolgono è un servizio prezioso alle famiglie e per questi ragazzi, questi bambini che possono riprendere un'attività formativa comunitaria tra di loro. Un'ultima domanda, ma è inevitabile, è stato presentato il nuovo logo della diocesi. Mi sembra opportuno anche il periodo del tempo, una nuova immagine per un nuovo tempo. Sì, sì, l'immagine direi che raccoglie il percorso della nostra chiesa, un percorso che sappiamo articolato e abbiamo sottolineato molto anche per le linee con cui è stato costruito questo logo, che sono tutte linee aperte e rappresentano un oggetto preziosissimo che è tipico della nostra chiesa. Il calice del diacono urso del VI secolo è davvero qualcosa di prezioso, anche perché richiama il gesto centrale dell'esperienza cristiana, quello dell'Eucaristia. È stato espresso dall'artista che ha vinto questo concorso con delle linee che richiamano anche le linee del nostro territorio, le montagne, le vallate e quindi raccoglie insieme tanti elementi. Spero anch'io che sia espressione di una novità, ma che rilancia quanto abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti. Curiosità sciocca, ma è una curiosità legittima. Quanti hanno partecipato? Sì, la partecipazione è stata di 33. Quindi parecchi, anche perché è un po' da tutta Italia, no? Sono da tutta Italia, il territorio nazionale. La commissione giudicatrice, la giuria ha scelto uno, due e tre. E quindi il vincitore è stato il numero uno. Ed è un artista che sta concludendo anche la sua esperienza lavorativa di grafico. L'ha conclusa bene, insomma. E' una maniera migliore, anche perché è una cosa che resterà nei secoli, nella tradizione. Grazie a Don Renato Marangoni, Vescovo della Diorcese di Belluno, Feltre. Naturalmente buon lavoro per le prossime settimane. Grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Grazie a tutti.